Ciao! Ed eccoci qui con un nuovo video shopping con questa tipologia che vi piace tantissimo quindi con i capi indossati, mi devo abbassare un po' perché sennò non mi vedete tutta Allora, cominciamo subito Questo che è un maglioncino che ho comprato da H&M è molto 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 bello perché appunto è morbidissimo perché è fatto in ciniglia ho preso la taglia S, sì perché l'XS era un po' più corta ed è bellissimo, guardate anche questo particolare di avere le maniche così a sbuffo e lo rendono bellissimo, questo qua mi è piaciuto, mi è piaciuto tanto e niente, la gonna invece è la gonna che ho io da qualche anno è così in pelle, molto carina perché è fatta tipo jeans con le taschine questa è di Rakebone, sì, molto carina adesso vi faccio vedere tutto il resto questa invece ha un super cappottone, giaccone, camicione, chiamatelo come volete questo l'ho trovato da Zara nella sezione saldi, infatti era a 29,9 ho controllato sul sito, purtroppo è sold out, non c'è più però è carinissimo perché appunto è super morbido, non è foderato quindi va bene giusto in questa stagione ha queste belle tascone qua, ha le tascone così laterali e poi la cosa più carina è che ha il cappuccio che si può togliere che è impermeabile, ed è perfetto questo cappottone, vedete quanto è lungo? ecco qua, adesso lo vedete bene questo cappottone è perfetto quando vado in monopattino la sera perché metto il cappuccio, beh che butto, fa freddo, mi tiro sul collo ed è molto caldo poi essendo così largo posso metterci sotto anche il giubbotto quindi è lo strato in più che mi serve per il monopattino la sera e lo trovo bellissimo, vi piace questo genere così scacchi che adesso va tantissimo? questo è un completo che mi è piaciuto subito, amo vestirmi con i colori chiari quindi con il panna, con il bianco vieni qua, vieni qua, vieni qua niente, volevo farvi vedere Novi volevo prenderlo così di soppiatto e non ce l'ho fatta eccola qui, saluta mamma mia come sta tremando, ma come sta tremando, ma come tremo niente ci sono tipo 35 gradi in questa casa ma lei trema, sempre e stavo dicendo, mi piace appunto vestirmi di chiaro, mi piace tantissimo e questo completo mi è piaciuto da matti questo è un completo di Zara ed è quello in collaborazione con Pantone vorrei andare il più possibile indietro, ma non ce la faccio ecco, voglio farvi vedere la lunghezza della gonna che arriva quasi alla caviglia, perché è molto lunga è fatto tipo un completo di tuta, però è foderato è in collaborazione con Pantone, oppure Pantone, chiamatelo come volete quindi non è restituibile se l'ordinate, non è restituibile e ci sono vari pezzi di questa collezione io ho appunto preso la gonna, che è lunghissima che pensavo fosse un po' più corta e poi questo maglione della gonna ho preso la S, che è la taglia giusta perché veste appunto giusto invece della maglia, avevo paura che fosse troppo corta quindi ho preso la M, infatti è un po' larga se vi interessa questa collezione calcolate che non potete fare il reso e questa è la vestibilità quindi è una vestibilità molto over non penso che sia molto più corta la S quindi avrei potuto benissimo prendere anche la S e mi è piaciuto tanto mi piace? questo vestito vi è piaciuto tantissimo ve l'ho fatto vedere su stories anzi seguitemi su instagram gabrielagrechi underscore lo trovate qua, in qualche parte è scritto e l'avevo abbinato con lo spolverino lunghissimo fino ai piedi panna con l'anfibio, quello di Dior, panna e vi era piaciuto tantissimo questo qua di H&M, appunto è in mezzo adesso ha la manica così leggermente a sbuffo io ho preso un XS questa è la lunghezza è un po' cortino però mentre ero lì appunto nel negozio cosa vuole? a chi è mai alla finestra? ho provato la S ma la S era tipo lunga sotto il ginocchio cioè non ho capito perché l'XS arriva qui e la S invece arrivava tipo 10 cm dopo ho detto no ok, preferisco leggermente più corto che non leggermente più vivo perché appunto questo qua è un vestito carino poi appunto come taglia mi sembra giusta e questo mi è piaciuto tantissimo anche voi siete impazzite per questo intanto l'avete anche già comprato il pezzo forte di questo shopping è questo toppettino di H&M bellissimo guardate vedete com'è dietro questo costa 39,9 c'è SMML è fatto così in maglia metallica effetto diamante ed è bellissimo secondo me questo è un pezzo da avere sempre da tenere proprio nell'armadio anche come sotto giacca fa una figura pazzesca pensate sotto una giacca bianca, nera, rossa bellissimo è stato e inverno top questo mi piace da matti è il mio pezzo top, forte ecco qui due pezzi super basici di Zara questo Lilla che amo amo il colore Lilla poi tra l'altro le tasche è fatto tipo felpa è felpato dentro tipo tuta è molto basico giro collo manica lunga così a campana morbido quindi può essere usato sia sopra i leggings che appunto super sportivo super elegante per stare in casa oppure per uscire con il tacco oppure guardate anche con una borsa molto carina guardate come è carino e bello mi è piaciuto poi tra l'altro è super scontato l'ho pagato tipo 7,90 euro una cifra molto bassa e c'è sia Lilla che Nero adesso vi faccio vedere la versione nera però di un altro modello è molto più lungo com'è? mi piace? ed eccola qui la versione lunga molto 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 più lunga vedete la lunghezza anche questo ha le tasche anche questo qua è super comodo sia di questo che dell'altro ho preso l'XS anche questo qua è felpato però cioè felpato è in tipo felpa però non è felpato quindi la versione è diciamo estiva molto carino anche questo qua per andare in giro tutti i giorni così una cosa proprio da buttare su al volo oppure anche per stare in casa per non essere con la tuta per non essere trascurate e l'ho trovato molto carino anche questo qua se volete magari con una calza colorata con l'anfibio con il tacco basta cambiare gli accessori e cambiate completamente tutto il look a questo vestito super basic anche questo qua costava tipo 7, 8, 9 euro era anche questo qua lo trovate sul sito nella sezione dei prezzi speciali ecco ok questo ha fatto letteralmente impazzire a me sono andata ad H&M un giorno l'ho visto e me ne sono follemente innamorata ho detto Gabri ma tanto siamo chiusi quando lo usi la sera a Capodanno a Natale niente non ce l'ho fatta l'ho dovuto prendere perché poi tra l'altro avevo il cos'era 25% di sconto per regalo di compleanno e quindi ho detto ok va bene dai prendilo molto 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 carino anche di questo qua ho preso l'XS sul manichino sulla pendina il negozio pensavo fosse leggermente più corto infatti l'avevo pensato proprio da utilizzare sempre con gli anfibi quelli chiari quelli di Dior che mi piace tantissimo questo contrasto paillettes con l'anfido cattivo quindi la sera al ristorante così mi piaceva molto questo contrasto è solo che è molto lungo quindi è a propria altezza anfibio e non mi piace moltissimo però niente il vestito è bellissimo è super morbido è una di quelle paillettes super morbide tra l'altro vedete con sotto la mia vabbè lasciate perdere il mio libido che ieri ho sbattuto contro la vostra miglia vabbè c'è tra i lividi guardate ho il lividi aspettate che cerco un livido ecco qua si vede questo me l'ha fatto venire Naomi perché mi dà i morsettini così pizzichi mi ha fatto venire sto livido adesso sta guarendo è giallo ma non vi dico l'altro giorno com'era comunque appunto è foderato fino al sedere poi invece non è foderato e l'ho trovato carinissimo poi è proprio morbido come paillettes con la manichina così tra l'altro con questo effetto così paillettes c'è anche se non sbaglio la maglietta c'è anche un vestito corto c'è anche uno lunghissimo con un buco qua sulla schiena e niente ne avrei presi tutti però alla fine ho preso questo qua che è proprio il mio genere non lo so mi sento proprio io mi sento donna paillettes dove ci sono le paillettes ci sono io questo mi piace com'è io lo trovo lo trovo delizioso poi questa manica così a sbuffo mamma mia mi fa impazzire col collo bello bello mi piace mi piace tantissimo mi sa che ho finito con lo shopping se non ci sono cose strane in giro vediamo no mi sa che ho finito con lo shopping quindi niente questo qua è tutto il mio shopping vi abbigliamento del periodo spero tanto di avervi tenuto compagnia come sempre vi dico qualunque zona voi siate qualunque parte del mondo voi siate vi raggiungo con un fortissimo abbraccio e se vi è piaciuto questo video un bel pollice in su condividetelo con i vostri amici e niente vi raccomando scrivete qua sotto il pezzo che vi è piaciuto di più o anche quello che vi è piaciuto di meno un bacione ciao